E' stato approvato oggi dall'Aggiunta Provinciale, su proposta dell'assessore alla viabilità Elicio Romandini, il progetto per la sistemazione della frana sulla Provinciale 25 per Castellalto, località Campogrande, dove, in seguito all'alluvione dello scorso marzo, si è verificato un ampio smottamento della sede stradale. Sono stati stanziati 250.000 euro con la procedura della somma urgenza. Anche in questo caso stiamo usando fonti residui di opere apparentemente non completate, spiega meglio Romandini, e che quindi giacevano inutilizzati e ancora vincolati nelle piaghe del bilancio. In realtà si tratta di opere completate da anni, in alcuni casi decenni, le cui somme residue non erano state svincolate. Questo lavoro di recupero dei residui, molto impegnativo da un punto di vista tecnico e amministrativo, sta proseguendo e confido di poter trovare altre risorse per la frana di Valle Castellana. La provinciale, completamente interdetta al traffico, è una strada di collegamento fra la variante alla statale 80 e l'abitato del comune di Castellalto. Lo smottamento della strada ha interrotto il normale deflusso delle acque, con la rottura di un tubo del diametro di due metri, e la creazione, anche per la presenza di due vasche imof, di un invaso di acqua di notevoli proporzioni. Con l'intervento in programma sarà rimossa la vecchia condotta, ripristinato il canale delle acque e poi sistemate la sede stradale e la scarpata. Insieme al ponte di collegamento sul Salinello e alla frana di Valle Castellana, continua l'assessore, questo intervento non era rimandabile, perché oltre ai problemi di viabilità in quella zona, si sono creati problemi di salute pubblica, in quanto il ristagno dell'acqua ha compromesso il normale funzionamento delle fosse biologiche. Inoltre, se non si intervenisse subito in caso di nuove piogge, vi sarebbero concreti rischi di nuove inondazioni.